E Cico perché li abbiamo abbandonati E poi Andiamo dentro Anna sei pronta? Buonasera Maria Io sono veramente felice che tu Mi abbia invitato in questa trasmissione In questa puntata epica Perché veramente l'aspettavo e ho un sacco di opinioni Chiamami Maria della Ionippi Va bene Maria della Ionippi E tu sei quell'altra rintronata Che sta nelle sedie Come si chiama? Tina Annina Tanna Tannina Tannina lì nelle sedie Perfetto Cipollanna Vediamo se abbiamo anche qualche altro partecipante A questo salottino sexy Ciao abisio Io sono Maurizio Cicanzo Maurizio Cicanzo Ah si Devo essere io Maurizio Allora perché io sono la moglie Hai ragione Tu maesino Cipollico Va bene Allora Anna è Anna Costanza E tu invece sei Tino Tino Cipollino Tino Tino Cipollino Che mi piace Non so che sia Molto bravo Luisi insomma È bravo E' uno in gamba Tino Tino Cipollino Beh grazie Paola A avere i 5 abbonamenti Molto gentili Tino Cipollino Tino